Cari amici, il tema del mio intervento è la situazione nel Donbass e il corso di un'operazione militare speciale per liberarlo dal regime neonazista che ha preso il potere in Ucraina nel 2014 a seguito di un colpo di Stato armato. Oggi mi rivolgo a voi, a tutti i cittadini del nostro Paese, alle persone di diverse generazioni, età e nazionalità, al popolo della nostra grande patria, a tutti coloro che sono uniti dalla grande Russia storica, ai soldati e agli ufficiali, ai volontari che ora stanno combattendo in prima linea e sono sui posti di combattimento, ai nostri fratelli e sorelle residenti nelle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizia e nelle altre aree liberate dal regime neonazista. Si tratterà dei passi necessari e urgenti per proteggere la sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale della Russia, di sostenere il desiderio e la volontà dei nostri compatrioti di determinare il proprio futuro e della politica aggressiva di parte delle eliti occidentali che si stanno impegnando, con tutte le forze, a mantenere il loro dominio. E per questo stanno cercando di bloccare e sopprimere qualsiasi centro di sviluppo sovrano e indipendente, per continuare così ad imporre crudamente la loro volontà ad altri paesi e popoli e a impiantarvi i loro pseudovalori. Lo scopo di questo Occidente è indebolire, dividere e infine distruggere il nostro paese. Dichiarano apertamente che nel 1991 sono stati in grado di dividere l'Unione Sovietica e che ora sarebbe giunto il momento per la Russia stessa che dovrebbe disintegrarsi in molte regioni mortalmente ostili. Hanno pianificato tali progetti da molto tempo, hanno incoraggiato le bandi di terroristi internazionali nel Caucaso, promosso l'infrastruttura offensiva della NATO vicino ai nostri confini, hanno fatto della russofobia totale la loro arma, per decenni hanno intenzionalmente coltivato l'odio per la Russia, principalmente in Ucraina, dove hanno lavorato per avere un punto d'appoggio antirusso e lo stesso popolo ucraino è stato trasformato in carne da cannone e spinto alla guerra contro il nostro paese, scatenando questa guerra già nel 2014, usando le forze armate contro la popolazione civile, organizzando genocidi, assedi, terrore contro persone che si rifiutavano di riconoscere il potere assorto in Ucraina a seguito di un colpo di Stato. Dopo che l'attuale regime di Kiev ha rifiutato pubblicamente una soluzione pacifica al problema del Donbass e ha annunciato le sue rivendicazioni sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che un nuovo, ennesimo attacco su larga scala contro il Donbass fosse inevitabile. E poi, altrettanto inevitabilmente, ci sarebbe stato un attacco alla Crimea russa, alla Russia. A questo proposito, la decisione di intraprendere un'operazione militare preventiva era assolutamente necessaria e l'unica possibile. Gli obiettivi principali, la liberazione dell'intero territorio del Donbass, rimangono immutati. La Repubblica Popolare di Lugansk è già stata quasi completamente ripulita dai neonazisti. Continuano i combattimenti nella Repubblica Popolare del Donetsk. Qui, per otto anni, il regime di occupazione di Kiev ha creato una linea profondamente frastagliata di fortificazioni. L'assalto frontale da parte di Kiev avrebbe provocato pesanti perdite, quindi ora le nostre unità, così come le unità militari delle Repubbliche del Donbass, agiscono in modo sistematico e competente, utilizzano attrezzature, proteggono il personale e, passo dopo passo, liberano la terra di Donetsk, liberano città e paesi dai neonazisti, forniscono assistenza alle persone che il regime di Kiev ha trasformato in ostaggi, in scudi umani. Come sapete, militari professionisti in servizio sotto contratto prendono parte all'operazione militare speciale. Anche formazioni di volontari stanno combattendo fianco a fianco. Persone di nazionalità, professioni, età diverse, dei veri patrioti. Al richiamo del loro cuore sono venuti in difesa della Russia e del Donbass. A questo proposito, ho già dato istruzioni al Governo e al Ministero della Difesa che nel più breve tempo possibile sia determinato lo status giuridico dei volontari, nonché dei combattenti delle unità delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Dovrebbe essere lo stesso dei militari regolari dell'esercito russo, compresi l'attrezzatura a disposizione, il supporto medico e le garanzie sociali. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'organizzazione della fornitura di formazioni di volontari e di distaccamenti della milizia popolare del Donbass con relativa attrezzatura. Nel corso dello svolgimento dei principali compiti di protezione del Donbass, le nostre truppe, sulla base dei piani e delle decisioni del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Generale sulla strategia d'azione, hanno liberato dai neonazisti importanti territori delle regioni di Kherson e Zaporizia e di un certo numero di altre regioni. Di conseguenza si è formata una linea estesa di contatto che è di oltre 1000 km. Cosa voglio dire pubblicamente oggi per la prima volta? Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale, già ai colloqui di Istanbul, i rappresentanti di Kiev hanno reagito in modo molto positivo alle nostre proposte, che riguardavano principalmente la sicurezza della Russia e i nostri interessi. Ma è ovvio che la soluzione pacifica non si adiceva all'Occidente, quindi, dopo il raggiungimento di alcuni compromessi, a Kiev è stato dato, di fatto, l'ordine diretto di interrompere tutti i negoziati. L'Ucraina è stata rifornita sempre più di armi. Il regime di Kiev ha utilizzato nuove bandi di mercenari e nazionalisti stranieri, unità militari addestrate secondo gli standard della NATO e sotto il comando de facto di consiglieri occidentali. Allo stesso tempo, il regime di repressione in tutta l'Ucraina contro i propri cittadini, instaurato subito dopo il colpo di Stato armato del 2014, è stato rafforzato nel modo più severo. La politica dell'intimidazione, del terrore e della violenza assume sempre forme più pesanti, terribili e barbariche. Ci tengo a sottolineare che sappiamo che la maggior parte dei territori liberati dai neo-nazisti sono innanzitutto le terre storiche della Novorossia e le persone che ci vivono non vogliono essere sotto il gioco del regime neo-nazista. A Zaporizia, nella regione di Kherson, a Lugansk e Donetsk, hanno visto e stanno assistendo ad atrocità che i neo-nazisti stanno compiendo nelle aree occupate della regione di Kharkov. Gli eredi di Bandera e i vendicatori nazisti uccidono persone, le torturano, le gettono in prigione, regolano conti, reprimono, tormentano i civili. Prima dello scoppio dell'ostilità, più di 7 milioni e mezzo di persone vivevano nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Zaporizia e di Kherson. Molti di loro sono stati costretti a diventare profughi, a lasciare le proprie case e quelli che sono rimasti, circa 5 milioni di persone, oggi sono sottoposti a continui lanci di artiglieria e di missili da parte di militanti neo-nazisti. Colpiscono ospedali e scuole e organizzano attacchi terroristici contro i civili. Non possiamo, non abbiamo il diritto morale di consegnare le persone a noi vicine perché vengano fatte a pezzi dai carnefici, non possiamo che rispondere al loro sincero desiderio di autodeterminare la propria sorte. I parlamenti delle Repubbliche Popolari del Donbass, così come le amministrazioni militari civili delle regioni di Kherson e di Zaporizia, hanno deciso di indire dei referendum sul futuro di questi territori e si sono rivolti a noi, Russia, con la richiesta di sostenere questo passaggio. Consentitemi di sottolineare che faremo di tutto per garantire condizioni sicure per lo svolgimento dei referendum, in modo che queste persone possano esprimere la propria volontà e sosterremo la decisione sul loro futuro che sarà presa dalla maggioranza dei residenti delle Repubbliche Popolari di Donetsk e di Lugansk, delle regioni di Zaporizia e di Kherson. Cari amici, oggi le nostre forze armate, come ho già detto, operano sulla linea di contatto che supera i mille chilometri e si confrontano non solo con le formazioni neonaziste ma di fatto con l'intera macchina militare dell'Occidente Unito. In questa situazione ritengo necessario prendere la seguente decisione, del tutto adeguata alle minacce che dobbiamo affrontare, proteggere la nostra patria, la sua sovranità e l'integrità territoriale, garantire la sicurezza del nostro popolo e del popolo dei territori liberati. Ritengo quindi necessario sostenere la proposta del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Generale sull'esercizio della mobilitazione parziale nella Federazione Russa. Ripeto, si tratta nello specifico di mobilitazione parziale, ovvero saranno soggetti alla leva solo i cittadini che attualmente sono in riserva e soprattutto coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate hanno determinate specialità militari e relative esperienza. I richiamati al servizio militare, prima di essere inviati alle unità, riceveranno un addestramento militare aggiuntivo tenendo conto dell'esperienza di un'operazione militare speciale. Ho quindi firmato il decreto sulla mobilitazione parziale. Conformemente alla legge, le Camere dell'Assemblea federale, il Consiglio della Federazione e la Duma di Stato saranno ufficialmente informate di questo oggi tramite lettera. Le attività di mobilitazione inizieranno oggi dal 21 settembre. Invito i capi delle regioni a fornire tutta l'assistenza necessaria al lavoro dei commissariati militari. Vorrei sottolineare che i cittadini russi chiamati al servizio militare mediante mobilitazione riceveranno status, pagamenti e tutte le garanzie sociali del personale militare in servizio con contratto. Aggiungo che il decreto sulla mobilitazione parziale prevede anche misure aggiuntive per adempiere all'ordinanza di difesa dello Stato. I capi delle imprese del settore della difesa sono direttamente responsabili dell'espletamento dei compiti di aumento della produzione di armi, di attrezzature militari e del dispiegamento di capacità di produzione aggiuntive. A sua volta, tutte le questioni relative al materiale, alle risorse e al sostegno finanziario per le imprese della difesa devono essere risolte immediatamente dal governo. Cari amici, nella sua aggressiva politica antirussa l'Occidente ha superato ogni limite. Subiamo costantemente minacce contro il nostro paese, la nostra gente. Alcuni politici irresponsabili in Occidente non parlano altro che di piani per organizzare la fornitura di armi offensive a lungo raggio all'Ucraina, sistemi che consentiranno attacchi contro la Crimea e altre regioni della Russia. Tali attacchi terroristici, anche con l'uso di armi occidentali, sono già in corso negli insediamenti di confine delle regioni di Belgorod e di Kursk. In tempo reale, utilizzando sistemi moderni, aerei, navi, satelliti, droni strategici, la NATO effettua ricognizioni in tutta la Russia meridionale. A Washington, Londra, Bruxelles, stanno già spingendo direttamente Kiev a trasferire le operazioni militari nel nostro territorio. Senza più nascondersi, dicono che la Russia dovrebbe essere sconfitta con tutti i mezzi sul campo di battaglia, seguita dalla privazione della sovranità politica, economica, culturale, in generale, di qualsiasi sovranità con il completo saccheggio del nostro paese. Stiamo subendo anche un ricatto nucleare. Non si tratta solo del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizia, incoraggiato dall'Occidente, che minaccia una catastrofe nucleare, ma anche delle dichiarazioni di alcuni alti rappresentanti dei principali stati della NATO sulla possibilità e sulla ammissibilità di usare armi di distruzione di massa contro la Russia, armi nucleari. A chi si permette di fare simili affermazioni sulla Russia, vorrei ricordare che anche il nostro paese dispone di vari mezzi di distruzione per alcune componenti anche più moderne di quelle dei paesi NATO. E se l'integrità territoriale del nostro paese venisse minacciata, useremo sicuramente tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo. questo non è un bluff. I cittadini della Russia possono essere certi che l'integrità territoriale della nostra patria, la nostra indipendenza e la nostra libertà saranno assicurate, lo sottolino ancora una volta, con tutti i mezzi a nostra disposizione. E coloro che stanno cercando di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che anche la rosa dei venti può girare nella loro direzione. È nella nostra tradizione storica, nel destino del nostro popolo, fermare coloro che lottano per il dominio del mondo, che minacciano lo smembramento e la riduzione in schiavitù della nostra patria. Lo faremo ora e così sarà. Sono certo del vostro sostegno.